ciao ragazzi e ben ritrovati al canale sono ceccacci simone perché ancora non mi conosce e in collaborazione con shortcut oggi volevo illustrarvi come risolvo io il problema delle cuciture lesticis queste linee tratteggiate che vedete qui bene questo è un esempio e per farvi vedere meglio come le realizzo mi sono copiato questa parte qui questa mesh allora per prima cosa io vado ad individuare dove potranno passare le mie cuciture quindi il mio loop il mio giro di age ad esempio potrebbe andar bene a ecco qui lo avevo già selezionato questo loop bene io mi estrarrò da questa mesh questo loop questo giro di age loop non è chiuso quindi non lo è in che modo facendolo diventare una curva in che modo qui sopra in modify scendo fino a convert e vado a schiacciare questo tool qui polygon age to curve ecco qui questa è la mia curva come potete vedere è un pochino segmentata perché la geometria non è neanche tanto lo poli però ovviamente ha dei passaggi allora per risolvere questo problema secondo me non è un grosso dramma ma se vogliamo possiamo andare qui sul menu a tendina course andare giù in rebuild selezionare e mettere non so magari 50 e fare apply ecco qui che la nostra curva è stata ricostruita ovviamente con più punti di ancoraggio perciò gli angoli ad esempio risulteranno più morbidi mutati perfetto un'altra cosa da fare subito immediatamente è regolare il pivot come potete vedere ho copiato il mio oggetto l'ho spostato e quindi quando ho creato la mia curva la curva risulterà spostata dal centro degli assi ma il suo pivot sarà sempre al centro del mondo perciò center pivot già che ci sono vado a fare delle history freestyle transformation tricchettino mio che un due tre e torno indietro per essere sempre più sicuro dopo di che andrò a creare la mia cucitura per farla ad esempio io uso un taurus lo vado a spostare vicino al mio pezzo in modo da poter vedere bene le proporzioni vado a cambiare le dimensioni magari qui metto 0 1 qui 0 0 5 8 suddivisioni 8 suddivisioni perfetto ci siamo quasi adesso andrò a tagliare le facce di troppo così da avere una con una conta poligonale ridotta eccoci qui e ovviamente la cucitura non ha questo archetto quindi mi permetterò di schiacciarla un pochettino se avrò necessità la allungherò un pochetto e se vedo che ancora cicciotta la riduco ecco qui perfetto adesso a questa curva a questa cucitura così com'è io gli andrò ad applicare un mash andiamo su questa shelf qui clicco l'apertura della finestrella a seleziono la mia mesce e gli do il comando mash sarà sparita perché lui automaticamente di default ne andrà a posizionare 10 di fila a partire dal centro degli assi il mio taurus originale verrà nascosto a questo punto io vado a creare il nodo curva e andrò a posizionare la mia curva al suo interno perfetto ora vediamo delle cose che non funzionano molto bene per esempio continuano ad andare in questa direzione le mie cuciture perfetto allora intanto seleziono questo 0 torno indietro nel mio mesce posiziono questo a 0 sarebbe la distanza l'offset e vado ad aumentare le mie sticci magari ne metto un 100 magari un 130 perfetto le mie sticci sono ancora tutte allineate da zero a questa distanza sì perché c'è un passo da dover settare lo step che di default è 0 1 se questo è 0 l'inizio della mia curva e la fine della mia curva è 1 questo è lo step 0 1 basterà solamente aumentare tutto ad 1 e lo avrò portato dall'inizio alla fine direi che 100 ne avevamo messo i 150 130 funzionano benissimo a questo punto non ci resta che orientare bene tutte le cuciture come possiamo fare prendiamo di nuovo il taurus ovvero la cucitura originaria con h lo shortcut per farlo apparire e scomparire lo facciamo in questo caso riapparire e giriamo la nostra mesh e come per magia vedremo orientare tutti quanti i nostri sticci perfetto magari 130 sono un pochino troppo proviamo 125 anche 120 forse 110 ok allineiamo un po così perfetto forse anche c'è ovviamente poi dipende perché se il mio sticci la mia cucitura iniziale sarà più piccola ne dovrò mettere di più se sarà più allungata ne dovrò mettere di meno ovviamente qui che succede sono un po altini potrei andare a lavorare di offset ma quasi quasi io preferisco entrare nei suoi componenti ed andare ad abbassare i vertici ecco qui in questo modo perfetto ecco qua ragazzi in questo modo abbiamo creato il nostro giro di cuciture in modo semplice rapido e sempre editabile spero che questa perla di saggezza se così la vogliamo chiamare sia servita vi sia utile e vi auguro buona giornata